ciao a tutti ragazzi oggi parliamo di un nuovo metodo per guadagnare qualcosina anzi forse anche un po più di qualcosina non stiamo parlando di stipendi diciamo mensili ma comunque si possono fare cifrette interessanti allora parliamo di sim cache allora siccome noi siamo molto acculturati traduciamo la pagina in italiano perché è meglio allora sempre sms però questa volta invece dei metodi che troverete adesso in alto apparirà qualche indicazione che vi porterà altri video sempre che utilizzano gli sms per guadagnare la differenza tra questo e poi metodi lì è che qui siamo noi ad inviare gli sms non a riceverli allora come funziona sim cache in pratica appunto guadagnate inviando sms ma non lo farete voi diciamo manualmente lo farà direttamente l'app con il vostro numero allora ci sono dei fattori positivi e dei fattori negativi quindi seguite tutto il video mi raccomando che poi magari vi venne uscite dopo che io non ho detto qualche cosa io dirò tutto dall'inizio alla fine di come funziona questa app i pregi e i difetti che ce ne sono anche di difetti allora appunto voi mandate sms usando il vostro numero non li mandate voi li manda l'app che sms manda manda codici tipo quelli per iscriversi ai siti di tipo facebook telegram diciamo quei codici che vi mandano per fare le iscrizioni a questi network ok e li mandate cioè l'app usa il vostro numero e vi paga per mandare questi sms non manda spam non manda pubblicità ok e potete essere pagati da 0,001 centesimi a 1 centesimo ok scegliete voi il prezzo del sms di quanto volete essere pagati il massimo è un centesimo ovviamente più alto mettete cioè il massimo è appunto un centesimo meno messaggi l'app manderà col vostro numero perché magari conviene mandarlo con numeri cioè con altre diciamo altre persone hanno impostato più basso diciamo il prezzo dell sms quindi all'app conviene mandarlo con quelli lì però manda anche messaggi ad un centesimo all'uno quindi in sostanza guadagnerete deciderete voi più o meno quanto guadagnare anche se non decidete voi il numero totale di messaggi potete impostare dei filtri cioè nel senso volete decidere di mandare faccio un esempio dei messaggi a 0,005 centesimi di euro l'app ne manderà tantissimi quindi onde evitare e qui passiamo anche al lato negativo della cosa onde evitare che la sim venga bloccata perché se mandate un numero di centinaia di mesi messaggi al giorno l'operatore potrebbe bloccare la vostra sim per traffico sospetto diciamo perché diciamo nel contratto se andate a vedere i contratti dei vostri operatori in quasi tutti i contratti anzi sicuramente in tutti i contratti ci sono dei limiti anche se avete gli sms illimitati c'è sempre un numero fisso di sms massimo che potete inviare cioè di traffico che potete utilizzare non sono mai infiniti come non sono infiniti i minuti anche se vi dicono che sono infiniti giornalmente c'è un tot di messaggi che potete mandare se superate quel limite di traffico il sistema rileva diciamo un traffico sospetto e la sim potrebbe essere bloccata a me è successo per dire con una delle mie due sim è successo e ho dovuto chiamare l'operatore sono passati due tre giorni alla fine me l'hanno riattivata però poi ho cambiato comunque operatore perché lo volevo cambiare non per via di questa situazione qui quindi adesso sto usando un altro operatore mentre sull'altra sim purtroppo ho fast web e poi solo soltanto 100 messaggi mensili quindi diciamo è poco utilizzata quella li li mando tutti e 100 nel mese però alla fine posso ottenere solo un euro in un mese con quella simbili e quindi prevedo che prossimamente cambierò anche quella sim per incrementare sempre tramite sim cash allora direi di a ci sono altre cose da dire allora ebbè qui e dice che ci vogliono sette giorni per ricevere un pagamento ma in realtà potrebbe volerci anche solo un giorno non è vero il fatto dei sette giorni potete essere pagati sia in euro monete diciamo in bitcoin queste cose qua su paypal o vi faranno un bonifico bancario che credo la miglior cosa comunque sia sempre paypal poi a meno che non ci avete diciamo non sono pratico di cripto monete se avete comunque un conto in bitcoin potete farvi pagare lì poi costa una cosa molto importante ci sono i referral allora i referral se voi fate scrivere cioè vi andate in descrizione troverete il link per arrivare a questo sito ok usando quel link in pratica vi affilierete a me ok io praticamente guadagnerò da quello che voi guadagnate però non è che ve li rubo io è cioè attenzione se vi guadagnate un euro per dire io guadagnerò 10 centesimi ma non li toglierò a voi sarà comunque l'app a pagarmi non siete voi a darmi a voi non rimarranno 90 centesimi questo io cercare di farvi capire e lo stesso potrete fare voi perché in pratica l'app vi dà il 10 per cento di quello che guadagnano quelli che voi avete fatto scrivere e in più vi dà il 5 per cento di quello che di quelli che avete fatto scrivere voi cioè nel senso io faccio scrivere voi e mi dà del 10 per cento poi fate scrivere un altro e quello mi dà il 5 per cento quindi c'è una reddita passiva che anche se voi magari non volete più mandare messaggi se avete un cospicuo numero di referral potreste comunque guadagnare lo stesso senza nemmeno però non conviene ovviamente conviene sempre mandare gli sms principalmente voi perché guadagnate di più perfetto però è un grandissimo metodo perché sono pochissime diciamo le applicazioni che hanno un referral così a piramide ok quindi nel complesso uguale nel st tipo il 15 per cento su due persone va bene potete crearvi più account su più telefoni c'erano su più sim quindi a usare un unico account e appunto ne ho due di telefoni e uso tutti e due account però un account solo per tutte e due le sim questo si può fare poi che altro si può usare la se avete un telefono dual sim potete usarlo benissimo l'app va a prendere entrambe le sim se volete usarle tutte e due un account multi telefono l'abbiamo detto monitoraggio remoto potete gestire ah sì perché da un telefono poi dopo vi farò vedere l'app direttamente sul telefono da un telefono solo potete gestire tutti gli altri telefoni cioè quindi impostare filtri e cose allora tornando ai filtri perché prima non l'ho detto potete impostare a parte il prezzo dell'sms che voi volete essere pagati potete impostare anche i filtri cioè nel senso decidete per dire ogni ora quanti sms può mandare l'app ogni giorno quanti sms può mandare l'app ogni mese quanti sms può mandare l'app potete impostarle anche tutti e tre per dire in un'ora mi devi mandare massimo 10 messaggi li manda a 10 e poi si ferma in quell'ora lì poi ne manderà altri 10 l'ora successiva poi per dire se impostate un limite giornalieri di 50 sms quando raggiungerai 50 sms giornalieri l'app si fermerà e non ne manderà più e così via poi per il mese scegliete un numero e l'app rispetterà quel filtro che voi avete impostato allora io principalmente il credito che ho accumulato che sono intorno ai 20 euro l'ho accumulato all'inizio perché proprio ho dato dentro diciamo tipo mandavo 100 sms al giorno facevo un euro al giorno con quest'app e poi purtroppo dopo un bel po però mi hanno bloccato l'app quindi ho deciso di tenermi un po più basso diciamo però è tutto da vedere perché poi bisogna fare delle prove insomma io direi che è un buon limite sia comunque sotto i 100 sms giornalieri forse diciamo tra i 60 e gli 80 fate tipo una 60 centesimi 80 centesimi al giorno poi più i referral se riuscite a fare scrivere altre persone magari riuscirete a fare un euro al giorno e quindi 30 euro al mese che comunque non sono male comunque ho letto su dei forum che c'è gente che c'ha tipo 3 4 sim e le ha solo per sim cash ce le usa solo per farmare gli sms è un letto sempre poi non lo so se sia vero o no che ci sono alcune persone che fanno centinaia di euro al mese tipo 200 euro al mese però non so se sia possibile o meno veramente io preferisco tenermi basso perché vorrei essere bloccata la sim onestamente però c'è gente che lo fa nel senso che se voi usate una sim solo per mandare sms avete più possibilità di mandare sms perché non fate traffico voce e quindi potete mandare più sms perché il sistema vede che voi mandate solo sms ma non traffico voce cioè tutto un bilanciamento di traffico voce internet sms come vi ho detto prima non esistono piani infiniti se andate a leggere i vostri contratti cercatele pure su internet vedrete che ci sono delle clausole che dicono che non potete parlare per dire più di tot ore al giorno e non potete mandare più di tot messaggi al giorno perché altrimenti potreste potrebbe bloccarvi diciamo la sim che poi comunque ve la reattivano e però potrebbe volerci giorni per per farlo e potreste rimanere senza telefono per alcuni giorni come è successo a me allora poi ci sono anche le facche però andatevele a leggere voi insomma c'è anche in italiano cose sim che esce ve l'ho spiegato già vediamo se c'è qualcosa che ho dimenticato questo l'ho detto allora come vedete da 0,001 a un centesimo per sms potete essere pagati ovviamente se vi tenete diciamo a metà strada che intorno ai 0,007 millesimi diciamo così manderete parecchi messaggi se mettete a un centesimo ne manderete pochi che però però può essere un filtro diciamo per mandare meno sms cioè se mettete a un centesimo già mettete una specie di filtro perché l'app ne manderà già poche di suo però almeno guadagnerete un centesimo ad sms quello che sto facendo io in pratica vediamo se c'è altro questo l'ho detto più utenti ci sono più trap che ci sarà e più sms ci saranno più guadagnerà l'app funziona serve la connessione a internet per far funzionare l'app l'app funziona anche in background però tenete la aperta e poi magari la mettete giù in finestra però è meglio tenerla aperta comunque non chiudetela completamente perché altrimenti a volte si mette in pausa vabbè poi all'inizio vi chiederà appunto i numeri il paese di provenienza insomma sciocchezze che comunque potete vedere da soli ecco qua poi altro fattore negativo perché sono due i fattori negativi negativi il primo che vi ho già detto è che se mandate troppi se esagerate troppo a mandare gli sms e magari siete pure persone che parlano parecchie a telefono quindi più parlate a telefono mettete il più basso possibile gli sms perché altrimenti si fa la somma insomma se parlate poco potete tenere molto più alto diciamo la soglia degli sms poi il secondo fattore negativo è questo qua come dice qui per evitare di ricevere chiamate indesiderate perché siccome voi mandate questi codici appare il vostro numero quando voi mandate sms che non sono niente di che perché quell'utente l'ha richiesto quindi a me non mi ha mai chiamato nessuno qui dice allora per evitare di ricevere chiamate indesiderate alcune persone si potrebbero lamentare degli sms ricevuti o un possibile blocco della sim da parte dell'operatore anche se spediamo spediamo solo otp e non spam o pubblicità come vi ho detto ti consigliamo di utilizzare una sim soltanto per sim cash cosa che sui forum fanno cioè lo fanno comprano una sim la mettono in un telefono e la usano soltanto per gli sms e c'è un letto di gente che manda pure 200 al giorno quindi fa 2 euro al giorno su più sim per dire e quindi guadagna un bel po di soldi a fine mese però servono parecchie sim ovviamente per guadagnarci perché altrimenti se fate tutto con una sola alla fine vi bloccheranno sicuramente vabbè poi il resto andatevelo a leggere voi ci sono tutte le spiegazioni anche in italiano allora ma vi faccio vedere l'app sta venendo un po lungo il video ma ci vuole perché bisogna essere precisi qui vi faccio vedere l'app e vediamo un po dentro l'app come funziona allora ragazzi sono passato al telefono quindi è il microfono del telefono abbiate pazienza se si sente non benissimo allora questa è la mia app diciamo la mia schermata come vedete in alto c'è il credito che ho raggiunto e sotto c'è il totale allora il credito il balance è più alto perché mi sono stati dati dei soldi da un mio amico che ha deciso di toglierla perché ha avuto paura ci sta ragazzi ci sta ha avuto paura che gli bloccassero la sim e mi ha dato 4 4 euro perché si possono passare anche i soldi da sim cash a sim cash a sim cash a sim cash si possono fare i trasferimenti di soldi da tra app e app ok basta inserire diciamo l'email della persona che volete pagare diciamo così e potrete trasferire dei soldi con un feed di 50 centesimi cioè pagate 50 centesimi e potete trasferire tutti i soldi che volete mentre per il pagamento su paypal c'è una provvigione di paypal di un euro e 50 e il minimo per essere pagati è 6 euro quindi ragazzi non conviene prenderli a 6 euro perché alla fine avrete 4 euro e 50 io ho deciso di arrivare a 21 e 50 adesso ho anche superato adesso faremo anche il diciamo la richiesta di pagamento insieme così vi faccio vedere come si fa già so che paga perché da fonti sicure so che paga però io ancora non l'ho mai fatto allora come vede sotto qui dove c'è active diciamo la slot 2 fast web così così cosa come sotto a fast web c'è scritto il prezzo che ho impostato di un centesimo a sms dovrete anche dire di che paese diciamo il prefisso che utilizzerete non potete scegliere altri paesi dovete scegliere proprio il vostro e mi raccomando e sotto c'è impostato il filtro dei adesso vi faccio vedere allo sim status attivo quella vabbè alcune cose le coprirò probabilmente qui c'è sms destination il prefisso e il prezzo che ho stabilito io e sotto ci sono i filtri qui potete impostare il filtro orario il giornaliero daily la settimanale il mensile che non ho messo io ho messo tre messaggi al giorno e basta su fast web perché più di 100 al mese non ne posso mandare quindi ho messo così poi andando in alto dove ci sono i tre puntini potete fare show remote sim e troveremo la mia altra sim che è con very mobile come vedete oggi ho mandato solo 4 messaggi su 20 perché ho impostato il limite sempre a un centesimo come vi ho detto impostando a un centesimo l'app ne manderà pochi di suo però almeno quei pochi che manda ve li pagherà al massimo cioè un centesimo comunque di solito i 20 messaggi al giorno io li mando per il momento ho messo 20 poi vedrò un po come come calibrare diciamo però per il momento diciamo lascio così e vedete che ci sono tutte e due le mie sim la fast web è veri ok dice anche il livello di batteria dell'altro telefono mi dice un po di cose e anche da qui potete anche impostare i filtri su quell'altro telefono ok poi va beh basta già ho parlato troppo poi ovviamente dovete impostare sim cache come metodo predefinito degli sms quindi gli sms anche quelli normali vi arriveranno qui su sim che adesso non posso farvi vedere i miei sms però sempre sui tre puntini c'è show sms e send test sms facendo send test sms manderete voi sms sempre tramite sim cache mentre show sms vi farà vedere quelli che avete ricevuto ok poi c'è change password show referral che c'erano solo due e però ci sono anche i nomi c'è solo il nome di battesimo diciamo non è che c'è il nome e il cognome della persona che che ha fatto il referral però uno in pausa diciamo così e l'altro si è fermato che quello che mi ha dato i 4 euro però raga vi ripeto è un app che paga si guadagna abbastanza quindi per me il gioco vale la candela almeno provare una volta se vi tenete bassi e non parlate troppo al telefono potreste guadagnare qualcosina senza fare niente alla fine perché non fate niente fa tutto l'app quindi potreste non guadagnare 30 euro al mese ma ne guadagnate 15 perché no cioè vi pagate la tariffa del telefono alla fine poi se impostate cioè se se invitate altre persone potreste guadagnare 20 pure 30 lo stesso non lo so poi dipende da quante persone si iscrivano col vostro link e questo è allora adesso facciamo la prova insieme e facciamo la richiesta di payout insieme ovviamente coprirò le mie mail le mie cose ragazzi ovviamente allora come vedete qui c'è il money transfer per diciamo da account ad account e si prende 5 50 centesimi di payout ok poi c'è le criptovalute che io onestamente non ho il bank transfer in euro in dollari però servirà l'iban probabilmente per per fare il versamento magari se avete una post pay con l'iban potreste scegliere anche quel metodo di pagamento però io uso paypal come vedete minimo payout 6 euro fi 1 euro e 50 e andiamo a provare così allora ho messo la mia non vedete ovviamente la mia email amount diciamo euro ovviamente a devo a devo scegliere io quanto ok e beh facciamo 21 21,50 così mi danno giusto 20 euro il resto lo lascia continua allora ho avuto alcuni problemi ad inserire la cifra perché in pratica mettevo il col correttore automatico impostavo la mia mela direttamente non fatelo scrivetela voi lettera per lettera perché altrimenti l'app non riconosce diciamo l'email e comunque ci sono riuscito impostato diciamo il pagamento controlliamo che sia tutto a posto ovviamente voi vedete oscurato il mio nome e l'email il impostato 21 euro e 50 centesimi in modo che si prende l'euro e 50 dovrà avere 20 euro poi vi farò vedere l'email appena arriva quindi non pubblicherò subito il video aspetterò che mi arrivi il pagamento così vi faccio vedere anche quello allora è tutto apposto qui dobbiamo mettere il nostro vero nome ok una volta messo il vostro nome reale perché poi deve coincidere con quello di paypal ovviamente facciamo continua ecco qua io vi trovo dovrebbe essere pagato entro il 18 diciamo di ottobre prese confirm ok conti vediamo se me li scala già o me li scalerà quando mi pagherà allora come vedete il credito è stato abbassato perché in pratica una volta che avrete inserito tutti i dati vi arriverà un email all'email di paypal che voi avete inserito e da lì potrete confermare che voi volete riscattare i soldi quindi in quel momento poi ci sarà si aprirà una pagina che vi dirà che è tutto confermato e a questo punto hanno abbassato anche il credito a 44 centesimi quindi adesso non ci rimane che aspettare che mi arrivi l'email di conferma di paypal che ho ricevuto i soldi a quel punto finirò il video e vi farò vedere il tutto per il momento ci fermiamo qui aspettando che poi attacchi con la colla nella restante parte del filmato che vi faccio vedere quando arriva l'email ed ecco qua ragazzi come vedete mi è arrivato dopo pochi minuti che ho fatto la conferma di ricevere il pagamento mi è arrivato anche il pagamento come vedete 20 euro su paypal da money sm da sim cash ho confuso l'app da sim cash 20 euro quindi ragazzi paga paga anche subito io credo che sia una delle app migliori fino adesso trovate per guadagnare qualcosa vabbè ragazzi il video è venuto lunghissimo penso che sia uno dei più lunghi del canale però ci sta perché bisognava spiegare parecchie cose sia positive che negative di quest'app quindi spero che vi sia stato utile spero che guadagnerete qualcosa anche voi mi raccomando fate iscrivere anche altre persone che ci guadagniamo tutti noi ci fermiamo qui e ci vediamo ad un prossimo video iscrivetevi al canale e lasciate un like ciao